Sei pronta? Sei pronto? Test ginocchio E abbiamo fatto un po' di pausa Il gigiocchio dava fastidio Si Si riparte Vediamo se ce la facciamo Il gigiocchio dava fastidio Grazie a tutti. 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 Finito il nevaio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Due ore e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. bene. per vedere. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti.